. Solo tre settimane al via della nuova edizione di Ballando con le stelle 2019, il talent di ballo condotto ancora una volta da Millie Parlucci. Anche se il cast ufficiale sia stato annunciato qualche giorno fa, la comica Valeria Graci ha fatto un appello alla presentatrice dello show con tanto di hashtag apostrofo cancelletto millilipensaci apostrofo. A quanto pare l'inviata del Tg Satirico Striscia la notizia ha fatto un provino ma è stata scartata. Solo per precisare. Succede. Mai chiesto niente a nessuno e se vede. È questo il commento della Graci sotto un post che la giurata selvaggia Lucarelli ha pubblicata su Twitter. Non è l'unica che in questi giorni ha fatto un appello alla Carlucci. La settimana scorsa, infatti, anche Cristina Plevani, vincitrice del primo grande fratello, si era candidata a Ballando con le stelle 2019. Ballando con le stelle 2019. Ballando con le stelle 2019, i primi tre concorrenti ufficiali. Ma chi sono i primi concorrenti ufficiali che danzeranno dal 30 marzo in prima serata su Rai 1? A quanto pare troveremo Angelo Russo, Suor Cristina e l'ex senatore Antonio Razzi sono dunque i primi tre concorrenti ufficiali di Ballando con le stelle 2019. Ad annunciarlo ufficialmente e in esclusiva per Italia Sì. Sabato scorso è stata Millie Carlucci in persona. Per il momento non si conoscono gli altri nomi ufficiali anche se sul web circolano da diversi giorni. Cara Millie, grazie per aver scelto Italia Sì. Per iniziare a rivelare ufficialmente i nomi dei concorrenti. Aveva detto Marco Gliorni sabato scorso. Ricordiamo che Ballando con le stelle 2019 si scontrerà contro un colosso della televisione italiana, ovvero Amici di Maria De Filippi. Infatti il 30 marzo su Canale 5 prenderà il via la diciottesima edizione del serano. Chi trionferà tra i due programmi? Non ci resta che aspettare. Grazie per aver guardato il video.